La dichiarazione d'amore di Totti prima del GF Vip La dichiarazione d'amore di Totti prima del GF Vip Ilari Blasi e le parole d'amore di Francesco Totti. Manca pochissimo all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, la conduttrice Ilari Blasi ha tenuto infatti giusto ieri la conferenza stampa del programma, ed è pronta a scaldare i motori prima del via definitivo, previsto per lunedì 11 settembre. . A ridosso della prima puntata, lei e suo marito Francesco Totti si sono raccontati alla rivista di Gossip Novella 2000, parlando della loro vita familiare e delle ultime decisioni prese dall'ex capitano della Roma. . Totti, come ben sappiamo ha lasciato la sua carriera calcistica ed ora è il manager della squadra, e durante l'intervista ha anche dichiarato il motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione. . Proprio per amore della madre dei suoi figli, ha deciso infatti di abbandonare tutto e diventare il manager della Roma, con lo scopo quindi di dedicare più tempo alla sua splendida famiglia. . A proposito di Ilari, inoltre, Francesco ha affermato che la risposerebbe ancora, insomma, il loro amore dura ormai da anni, ma sembra non conoscere crisi. . Totti stupisce tutti, il gesto d'amore per Ilari Blasi prima del GF VIP. Francesco Totti ha voluto quindi rendere omaggio al suo matrimonio con Ilari Blasi, la quale nel frattempo è molto occupata con i preparativi del grande fratello VIP 2. . Dopo l'estate d'amore condivisa con l'ex calciatore, e dopo l'annuncio shock di Totti di abbandonare per sempre il suo ruolo di capitano, la coppia è infatti pronta a votare pagina e dedicarsi maggiormente alla famiglia. . Ilari Blasi, nonostante sia al timone del programma di Italia 1 le Iene, e da due anni a questa parte anche del GF VIP, è riuscita anche durante il periodo lavorativo a trascorrere molto tempo con i suoi figli, stessa cosa invece non si poteva dire per Totti, sempre molto preso dagli allenamenti e dalle partite. . . Proprio per questo Francesco aveva quindi deciso di diventare manager della squadra del suo cuore, abbracciando quindi un lavoro che sicuramente gli potrà garantire maggior tempo libero da dedicare alla sua famiglia. . 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